Ciao a bitace.it, Andrea Francesco Berni mi ha chiesto Black Widow, lo abbiamo selezionato per la chiusura della 67esima edizione del Tomina Film Fest, quindi ce l'ha piaciuto moltissimo, però io dico solo due parole. È un film molto bello, diretto da Kate Shortland con Eric Pearson in sceneggiatura, è un film sulla famiglia e sulle spie, quindi rientra nella tradizione di oh mio Dio mio padre è una spia, oh mio Dio mia madre è una spia di Target, scuola omicidi, 1985 Arthur Penn, True Lies, 1994 James Cameron, anche perché no Spy Kids, 2001 Robert Rodriguez in chiave Family, e quindi ecco le spie, ecco la famiglia di spie, ecco Natasha bambina, ecco questa manipolazione sulla donna che all'inizio è da parte dei genitori e poi è da parte dello Stato, ed ecco che quindi diventa tutta una grande storia famiglia.